Nonna, sto facendo pochi torroni per venire morti, quello vecchio, no, questo qua cioccolato, il torrone si mangiava una volta, ma mettiamo questo a tostarci un minuto a fondo, ok, poi mettiamo zucchero, ma con 5 minuti a quanto? 200 grammi di mandorle, e quanto sta il forno? 680 grammi, 5 minuti, poi 250 grammi di zucchero, 30 mm d'acqua e un cucchiolino di limone e lo facciamo sciogliere, ecco, adesso facciamo sciogliere, lo zucchero, vedi? 5 minuti fa facciamo questo zucchero, adesso ti mandala anche, adesso sto facendo un po' di tostare con il zucchero, non lo spegni, la mettiamo per dentro, ecco, cosa stai facendo? mettiamo l'olio sulla gatta da fumo, no, e mettiamo, se non fa l'attacca, se non fa l'attacca, se non fa l'attacca, ho tutto l'attacca, eh? non mi dimenticate che si mette, la padella è aderente, ecco, vedi? adesso, vediamo un po' se è solidificata, la spazziamo, sì, vabbè, comunque si deve ancora aspettare un poco, poco, però già si è fatta, sì, è tipo quello là che comprime già le stelle, sì, strano di rimotti, sì, no, come è uscito adesso, a cioccolata, a pistacchi, a mandorle, ma era pure buona, vabbè, ma prima usavo solo questo, sì, ecco qua, bella, eh? Angela, mi ha fatto tutto, non si è andato a gustare un po' che vedo, però è buonissima, troppo buona, favorito, cavalletto, consulata, eccola qui,